Ciao ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video, io sono Giuseppe e oggi vi faccio vedere come capire dove posso volare con il mio drone se sono un aeromodellista. Dunque, io tendenzialmente uso due programmi, due siti che mi fanno vedere esattamente dove posso volare e quali sono le leggi in vigore in quel preciso punto. Per esempio, vi faccio vedere NotamInfo, che è un sito che permette di vedere tutte le cartine aeronautiche insieme dell'Italia, nel caso in cui si scelga ItalyMap. E in questo sito, così come quell'altro che voglio farvi vedere, che è il sito ufficiale dell'ENAV, vi faccio vedere come effettivamente controllo se posso volare in quell'ambito, in quel luogo, senza così dover intercorrere in problemi dovuti alla legge. Bene, partiamo allora da NotamInfo.com, questo è un sito aggiornato quasi giornalmente, in cui uno si può fare un'idea di quello che può fare o non può fare. Ora, tralasciamo la cartina dell'Italia che così sembra veramente un disastro, veramente confusa. Cosa bisogna fare per vedere dove posso volare col drone? Allora, iniziamo a togliere le cose che non ci servono, tipo le prime tre spunte, e poi vado a selezionare dentro il tab Airspace Detail, Show Default Airspace. Selezionando questi, si possono vedere tutte quelle parti in cui non è possibile volare da aereomodellista. Ora, prendiamo un esempio vicino dove abito, che è Milano, in quanto ci sono tanti esempi. Allora, come si può vedere, ci sono una serie di quadrati cerchi colorati. La potenza di questo sito, NotamInfo, è proprio questa, nel senso che io se seleziono un qualsiasi punto della mappa, mi può dire esattamente cosa c'è in quel punto. Ora, prendiamo il caso di voler volare, come era modellista, a Monza. A Monza, in teoria, non si può volare, perché c'è la linate CTRE. In sostanza, da per terra, soffresserebbe il terreno, fino a 2000 piedi, non è possibile volare. Quindi, in questo mega quadratone, rettangolone, rosa, non è possibile volare ad aereomodellista. Così pure, per le zone proibite, i cerchietti rossi che vedete, in questo caso il carcere di Bollate, è proibito anche qui. Addirittura, c'è quest'altro cerchio rosa, che si vedete qui, in cui, sempre linate ATZ, dove effettivamente, se è colorato, non si può volare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, in generale, se voglio volare ad Abbiategrasso, nelle campagne di Abbiategrasso, lontano, 150 metri, da case, persone, strade, io qui posso farlo, per esempio. Poi, una volta più o meno capito da questo sito, se posso volare o meno, la certezza matematica la si ha tramite il sito dell'Enav, in quanto all'interno del sito dell'Enav esistono le cartine AIP. All'interno delle cartine AIP, si va sopra ENR, per esempio su Milano, io se me le ero guardate tutte, una per una, per capire un po' i vari scenari, la cartina ENR6 identifica Milano. Eccola qua, 6.33 identifica la zona di Milano. Qui la cartina è un po' più complicata, in quanto non è iterativa, ma è un PDF, in cui si dice, cioè tramite una leggenda, dove effettivamente si può volare e dove no. Giusto per farvi capire, se non c'è bisogno di andare nel dettaglio, stessa storia, uguale a prima. Se sono all'interno di rettangoli colorati o cerchi colorati, lì non si può volare. Quindi se volete essere sicuri al 100% di voler poter volare in una determinata zona, questa zona la si cerca all'interno delle cartine dell'AIP, del sito dell'Enav, e qui avete la certezza matematica che se si può volare oppure non si può volare. Detto ciò, vi volevo far vedere che c'è una leggenda qui. Questa leggenda mi identifica una serie di paroloni, una serie di acronimi, che non sto qui a spiegare, eventualmente lo possiamo vedere in un video futuro. E generalmente, ecco, mi sta dicendo che bisogna essere attenti a determinati simbolini. Benissimo, queste sono le informazioni che volevo darvi. Personalmente penso che si può direttamente guardare questa cartina, un'indicazione di dove si può volare e dove non si può volare. Se poi si vuole andare a vedere, come nel nostro caso, zone particolari in cui non si capisce bene se si può volare o meno, ci viene in aiuto la cartina che vi ho appena fatto vedere, che è quella situata sul sito dell'Enav, accessibile solo previa registrazione al sito. E da qui si possono vedere esattamente i posti in cui si può volare, senza alcun problema. Facciamo un altro esempio velocissimo. Per esempio, questa, diciamo, è la nostra cara Italia. Se voglio andare a vedere, scendiamo nel dettaglio, a Voghera. Voghera vedo che ci sono una serie di pallozzi qui colorati, e poi magari qui delle campagne in cui è possibile volare. Confrontiamola sul Flight Planning Map del NOTAMINFU. Se voglio andare a vedere Voghera, eccolo qui. Lui mi segnala su questo sito e mi segnala una zona proibita su Voghera, da surface fino a 1500 piedi, per proteggere le strutture. Da quest'altra parte, la cartina ufficiale, invece. Eccolo qua il mio pallozzo. Vediamo se è simile. Sembra proprio di sì, è simile. Ecco, potenzialmente io qui, per esempio, a Riva Nozzano, dovrebbe chiamarsi così, Riva Nozzano, in questo posto qui, lontano da strade e persone, adesso possiamo anche andare a vedere su Google Map, in realtà, se cosa c'è a Riva Nozzano Terme. Terme, è qua. Eccolo qui. Mamma, bel satellite. Oh, qui, a Riva Nozzano, questa è a Riva Nozzano Terme, se voglio andare, dove dicevo io, qui in mezzo alle montagne, posso volare tranquillamente, lontano, 150 metri, da casa, costruzioni, popoli del mare, peropero e chi ne ha, chi ne metta. Qui posso volare senza problemi. Ecco, questi sono siti, secondo me, importanti da sapere, magari se ci si può aiutare anche con delle applicazioni che fanno lo stesso lavoro. Ecco, però, sono due siti, di cui uno è quello ufficiale, in cui anche chi ha patentini e brevetti fa riferimento per eventualmente fare dei lavori. Sono dei siti, sia uno, e poi quello ufficiale l'altro, molto utili per capire dove si può volare e dove no. Per questo video è tutto, ragazzi. Se avete domande, ponetemele pure qui sotto, nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, e se avete voglia di lasciarmi un like o iscrivervi al canale, sapete come farlo, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao, alla prossima.